Good morning, sì, qui sono le otto, le otto, diciamo, e questo credo sia proprio il report più presto in assoluto che abbia mai fatto, incredibile, diciamo anche per non motivi che, no, soprattutto per non motivi che non dipendono da me, diciamo, mi sono alzata così presto, probabilmente è un'abitudine perduta da tempo da me, dovrei tornare a farla, anche se non dipende da me, ma è chiaro che una personata che con la letta è normale, si sveglia a questo orario, ad ogni modo, per cui oggi è mattina prestissimo, dopo tantissimo tempo, credo di non averlo mai detto, quindi questa prima volta lo dico, mister, master, maestro, o semplicemente o semplicemente David Lynch, it's May 21, 2022, and it's Saturday here in Naples, a clear, clear morning in this moment, very steep right now, it's 25, 22 Fahrenheit around 24 Celsius, and this means that it's that day really, 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 really soft, like in these days and this period, and also over, because it seems more a summer climate than spring climate, as regard David Toots, I don't know if I do it, o ancora quello di ieri da caricare, probabilmente questo di oggi scalerà domani, ma comunque, in generale, eyes open if you're interested in the, in generale of the video tools, anyway, I see on the wall, just see from the window, I think that this afternoon temperature potrebbe salire, come sempre, tendenza di diversi giorni, però, ovviamente non siamo dei maghi, su questo come vedremo più tardi, but the really important thing with this atmosphere is that today surely we are going to be enjoying those beautiful, those beautiful, those beautiful, those beautiful, those beautiful, those beautiful, blue skies and golden sunshine, I think all along the way, ovviamente qui all along the way sempre minore rispetto a voi, soprattutto agli amici americani, parlo, intendo, perché siamo in un orario completamente diverso, mi sapete, bene, io credo abbiamo superato la settimana col sole, quindi otto giorni dovrebbero essere, se non erro, o comunque sette, comunque un record, io ce l'ho detto, non ricordo un trend di sole così lungo in tutta la nostra storia del report, benissimo così, speriamo di continuare anche domani, per cui, say this, so from the mythical window with the orange red, blue, green water courtier, and it's green, roller, shooter, behind me, on the top, not visible, and in factor in the shot, and finally from the mythical keyboard, amadigix, 640, IPG, IPG, 625, eh, great day, immoldo people, follow the 10th anniversary, un saluto davvero a tutti, and also, I hope you will ever greet the breakfast, io la farò tra poco, il mio sonaco Brontola, non so se lo sentite, ma soprattutto, spero che possiate consolare il tempo con la colazione, se il tempo fosse brutto, dalle vostre parti, non che non vi consoliate, anche in generale, ma, certamente, secondo me, per quella che è la mia visione, quando il tempo è brutto, la colazione è ancora più una consolazione, tra l'altro, in italiano fa anche rima, I'll see you in the video to see for the week or tomorrow, sì, e poi, sì, effettivamente, per essere maggio, ed esserci questi gradi, la cosa è un po' paurosa, direi, io, I am agree with you, ha a great day, Grazie.